Siamo qua con Mister Camisa, prima vittoria in campionato, un 5-1 che toglie un passasse dubbio, un'ottima partita, un'ottima prestazione da parte dei suoi giocatori. Cosa ci dice Mister? Io sono contento della prestazione della squadra, anche se ne prendi 15 o 20 minuti. La squadra ha giocato molto a contratta, non mi è piaciuta, mi venivano a dare risultati negativi, quindi c'era un po' di timore, un po' di paura, spero ovviamente che ci siamo tolti questo timore e questa paura dopo questa partita qua. Vedo molti giovani in campo, dall'inizio del campionato che fa giocare molti giovani, molto bene, alla fine è arrivata la vittoria, dicono tutti grandi complimenti, ma il dunque è arrivato oggi con un altro vittorio di 5-1. Ma noi dobbiamo prendere i complimenti per essere positivi, perché abbiamo una squadra giovane, un anno zero da parte nostra, tanti giocatori nuovi e comunque dobbiamo lavorare, testa bassa e pedalare, come dice qualche giorno. Il nostro obiettivo è quello di comunque continuare su un certo tipo di percorso e speriamo che i ragazzi, almeno dopo questa vittoria, siano tra virgolette più sereni. Grazie Mister, è tutto.